Benvenuti in questa nuova trailer reaction, è uscito poco fa il primo trailer di IT capitolo secondo e adesso ce lo andiamo subito a vedere insieme Beverly Questa signora mi fa paura Già Stai ricordando quella signora Oddio Insetti Cosa dicono a proposito di Danny? Che chi muore in questo posto è come se non morisse in realtà Oddio che paura sta signora Ma com'è ritornare qui a Danny? Le va di dirmelo? Bellino, strano Strano? Oh cielo Avevo messo dei biscotti in forno prima che arrivasse Mi aspetti qui? Non voglio disturbare, è meglio No, 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 insisto Oddio Quando mio padre venne in questo paese aveva in tasca solo 14 donne Ma questo non è un trailer in una clip Mio padre lavorava nel circo Oddio Oddio è la figlia di IT Mamma mia Eh sì Io sono sempre stata la bambina di papà Ma era anche lei? Sei ancora la sua bambina Beverly? Lo sei? Mamma mia Mamma mia Oddio è la signora anziana nuda che ti corre avanti La riunione del club dei perdenti è ufficialmente aperta Sono tornati i club dei perdenti Serveremo se resteremo uniti Sì Salve Ciao Pennywise Oddio che hype mi ha messo Mamma mia che ansia quella signora Porca miseria Vi metto subito una cosa, non so nulla della miniserie degli anni 90, non l'ho mai vista, quindi non conosco la trama, non so che cosa capiterà, so solo che il club dei perdenti è cresciuto, i ragazzi sono diventati grandi, abbiamo visto Beverly in una vera e propria clip del film, perché non era un trailer, era una clip, il montaggio di altre scene è venuto dopo. Mi ha messo parecchio hype, il primo mi è piaciuto ovviamente non esageratamente, non è che faceva paura insomma, metteva un po' di timore ma non paura. La cosa che mi incuriosisce tantissimo è che l'attrice che fa Beverly, Chasten mi pare che si chiami, Jessica Chasten, ha detto che ci sarà una scena con così tanto sangue come non si è mai vista in un film horror. Il primo capitolo di Hit del 2017 è quello che ha incassato di più nella storia del cinema, quindi mi aspetto tantissimo da questo secondo capitolo, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se anche a voi ha terrorizzato la signora anziana, la figlia di Hit, cioè di Pennywise. Ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, lasciatemi tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se volete e ci vediamo alla prossima reaction. Ciao! Ciao!